Da segnalare una rissa che si è verificata sul lungomare Lombardo di Genova, ci troviamo nella regione Liguria. Delle ragazzine infatti se le sarebbero date di santa ragione tra schiaffi, pugni e calci, volate sono delle scarpe con tacchi utilizzate per colpirsi a vicenda. Una ragazza con sangue sul volto, la gente gride e esclama, raga avete visto le ha spaccato il tacco in testa. Nessuno però ha chiamato le forze dell'ordine, le botte quindi sono perdurate o meglio proseguite. In tanti sono a guardare, altri a firmare, a inviare i video nei diversi telefoni cellulari di Whatsapp. Qualche ragazzo cerca di dividere le ragazze ma la foga è troppo elevata. Ci troviamo alle 4 di notte di martedì dopo probabilmente una sera in discoteca. Secondo una delle ragazze protagoniste della scazzottata, la rite diciamo che sarebbe nata per motivi futili. Non c'è infatti alcuna denuncia in atto. Vi ringrazio per l'ascolto, per la visione di questo video. Un saluto caro da Leandro, arias dal vostro narratore italiano.